Ciao a tutti, oggi prepareremo le carote alla salvia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono burro a pezzi, salvia fresca o salvia secca, pepe, sale, acqua e carote pelate tagliate a rondelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Aggiungiamo il sale. Abbiamo già posizionato nel cestello le carote che abbiamo tagliato a rondelle dello spessore di circa 3 mm. Posizioniamo il cestello all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le carote sono cotte, adesso rimuoviamo il cestello dal boccale e lo andremo a svuotare. Per rimuovere il cestello dal boccale utilizzeremo il becco della spadola. Abbiamo svuotato il boccale. Mettiamo all'interno il burro. La salvia. Il sale. E il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per un minuto. 37 gradi, velocità 3. Abbiamo ripreso le carote. Le rimettiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto con l'anti orario a velocità soft. Le carote alla salvia sono pronte. Trasferiamole in un contenitore e serviamole. Carote alla salvia. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.